Sta facendo discutere un post che il Partito Democratico di Brindisi ha pubblicato sulla propria pagina Facebook nel quale si segnalano 240 assunzioni da parte di Aeroporti di Puglia. Un post criticato da Forza Italia che ironizza sul ruolo del PD locale quasi si fosse improvvisato navigator o centro impiego e che definisce inopportuno considerato che Aeroporti di Puglia è di fatto una società per azioni e attrazione regionale annoverabile a tutti gli effetti negli enti pubblici. Un partito, una forza politica dovrebbe occuparsi di creare posti di lavoro e non di promuoverli laddove c'è da inserire qualche persona. Né il post dice Forza Italia il sapore di una semplice informazione. Tutto dimostra tranne che la semplice informazione fatta ai cittadini e ai giovani che eventualmente potrebbero inserirsi in Aeroporto di Puglia. Da qui la richiesta di un chiarimento al PD ed Aeroporti di Puglia ma mentre quest'ultima non intende rispondere lo fa invece il segretario cittadino del Partito Democratico Francesco Cannalire che è contattato parla di polemiche strumentali e di delegittimazione di un'iniziativa finalizzata a dare massima visibilità ad una notizia di grande interesse per la collettività. Un maldestro tentativo dice Cannalire per insabbiare una notizia positiva per tanti che aspettano la loro occasione per realizzarsi e a differenza di chi polimizza inutilmente conclude noi faremo sempre di tutto per informare di opportunità di lavoro con tutti gli strumenti a nostra disposizione.